Musica Il crossfit è movimenti funzionali e non c'è movimento funzionale migliore come lo squat. Lo squat si perfeziona cercando di mantenere il corpo il più dritto possibile, cercando di scaricare a terra a centropiede tutto il peso del proprio corpo, mantenendo la parte sgueriore il più dritto possibile e cercando di spingere le ginocchia verso l'esterno, facilitando così la salita e la discesa da dentro. Lo squat è il miglior modo per sollevare il più carico possibile, sia qui da noi che nella vita di tutti i giorni. Musica Musica Allora siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 17. Musica 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 Musica